Siamo con il mister Massimo Bagatti, allenatore del Legnago Salus, a cui chiediamo innanzitutto un commento su questa partita. Il commento è molto semplice, abbiamo incontrato una squadra forte, sicuramente più forte di noi. Noi ci siamo arrivati, tra l'altro dopo due giorni fa abbiamo giocato col Padova, loro non hanno giocato. Io non mi attacco mai alle assenze, sicuramente oggi probabilmente erano un po' troppo per fare una partita di questo livello. Loro abbiamo tenuto bene il primo tempo, con un atteggiamento sicuramente difensivo. Loro hanno trovato quel gol e quando poi dopo ti devi sbilanciare contro squadre che stanno fisicamente meglio di te, che hanno giocatori di livello più alto, dopo diventa veramente complicato. Alla fine abbiamo preso altri gol, però ripeto abbiamo fatto secondo me la partita che oggi potevamo fare. Non posso dire niente ai ragazzi perché hanno dato tutto. Ripeto, venire qua a Perugia senza mezza squadra e con loro freschi, mentre noi due giorni fa abbiamo fatto una battaglia contro il Padova, sapevamo che sarebbe stata un'impresa difficilissima, come poi si è rivelata sul campo. Come valuta la prestazione di Lazarevic e la fase difensiva? La fase difensiva, fino a che non ci siamo sbilanciati per provare a fare gol, è stata fatta bene. Diciamo che abbiamo scelto di fare questo tipo di partita per provare a compattarci, a cercare di fare un po' meno fatica, di essere meno lunghi e di provare a ripartire, consci della difficoltà e del gap che c'erano oggi fra le due squadre. Quindi abbiamo affrontato la partita con umiltà, con spirito e sacrificio. Purtroppo poi alla fine ora è un periodo che quando appena una squadra è un'occasione ci fa gol, è andata così. Che partita si aspetta domenica contro il Gubbio e chi pensa di recuperare per quel match? Speriamo di, al massimo potremmo recuperare Laurenti e Bulevardi, non sicuramente né Gasper né Iabre. Speriamo che quelli usciti dal campo oggi stiano tutti bene perché, ripeto, due partite, Padova e Perugia in due giorni sono una fatica importante. Domenica mi aspetto un'altra partita molto complicata, sicuramente però non contro una squadra del livello del Perugia e del Padova che hanno dimostrato sul campo, insieme alla Tristina, di essere gli organici che non c'entrano niente con questa categoria. Per concludere, cosa le è piaciuto oggi? Oggi mi è piaciuto che la squadra è stata compatta, ha avuto spirito, si è sacrificata, è un bel gruppo di ragazzi che lottano uno per l'altro, però, ripeto, oggi veramente tirar fuori dei punti da qua, dovevi avere la fortuna negli episodi, ma dovevi avere della fortuna e noi ultimamente non siamo di certo una squadra fortunata. Poi, tra l'altro, succedono delle cose, tipo l'ultimo gol, come il Chiorri ha detto all'albitro non è rigore, e l'albitro ha voluto dare rigore lo stesso, magari potrebbero essere anche più intelligenti in certe situazioni, però la partita ha meritato di vincere al Perugia, l'ha vinta meritatamente e il risultato è giusto.